Dunque, nonostante la mia repulsione verso le giappominchiate, in passato ho giocato dei titoli che mi hanno molto convinto, alcuni fanno il fantasy, dell'host odyssey su 360 mi ha piaciuto un sacco, ma non solo, certo mi farà cagare buona parte, ma non so niente di questo gioco, assolutamente niente, 0 0 0 0, e quindi cominciamo, proviamolo. Sottotitoli mostra, non lo so, volume generale però lo lasciavo così. Non so se devo invertirli, non ho mai capito quali siano corretti per me. Vediamo. Oh, sottotitoli seri. Belli grandi. Sottotitoli seri. Sottotitoli è molto vero. Ah, effett照 la mia vita, non è perfetto. Ah, effettare la mia vita, non è vero. Sottotitoli. Sottotitoli. Ah, affettare la mia vita. Non lo so, effettare il visionario. What in the hell? Outta la way, you idiot! It's a... Spatina Cominciamo No, che cos'è? Micho Specie di Micho Felinide Otopinide No, Felinide Cosa è questo? URINA! URINA Pensavo fosse una donna Vabbè, che Con lo stile già pominchioso Non c'è molta differenza Da parte delle persone URINA! URINA! Cominciamo Dimmi che è un tutorial lento, progressivo E' a TURNI Dimmi che a TURNI Non è TURNI E non è in tempo reale Ti prego Sennò già questo potrebbe essere Il limite Che mi fa Chiudere Sembrerebbe TURNI Ma sì Sembrerebbe TURNI Allora Uno grosso Cominciamo con uno grosso Tu davanti Tu davanti Minchia, quanta roba c'è a schermo Dio cane Allora Mostra lo status dell'unità Vabbè, adesso non posso capire ancora Niente All'attacco con arti mistiche Consuma punti abita Modalità TURBO Forse per Skippare un pochino Segui gli stupi Non so All'attacco Facciamo una cosa base All'attacco Torniamo indietro Questo qui è Urina Compare il nome, no? C'è solo la faccina Divisione David TURNI Facciamo un misto Allora Questo Urina Usa le arti guerriere Il gattino Plotone Torgal Attacche basse Il pescione Bloch Mi piacerebbe sapere Cosa fanno Non c'è un po' Sento All'attacco Ah, sono più Plotone Ok Ora sto capendo Circa Gli altri Plotone Ecco lui Questo Plotone Usa le arti mistiche Eh, è l'ultimo Attacco Il lutto è la battaglia Io devo fare qualcosa Non devo premere niente Troppa roba Troppa roba Il corrigo Perfetto Sperate Niente E'erLa Poi tolgo la vibrazione Ovviamente non sto capendo un cazzo Chi attacca chi tolta come Perché Però il morale è alto Gae, Bolg e fuoco Non c'è alternativa Vabbè, è tutto Come dire, predilegito, ok Gae, Bolg, puntata Non l'ho già di poco Allora Urina? Sei un uomo o una donna? Sei un uomo Ma li chiami Irina? Ah, questo è L'attacco di fuoco È un cannone Ok Ehi, che cannone E la madonna Va bene, dai Non era neanche tutorial È una cosa così Irina? Tu sei urina E sei una donna È una donna È una donna Ah, è una donna Oh Oh Emma Blockter Quanto odio e amo il modo in cui sono vestiti C'è il C'è il C'è il C'è il C'è il Wait, listen to me! Listen to me! I'll hear whatever you have to say once we get out of here. Your story better be good, spy. What do you mean, spy? Think about it, genius. Why else would you be on a battlefield? What are you talking about? I'm just looking for my sister, Arena. Arena? What's your name? Me? Rush! Rush Sykes! Rush Sykes! Sykes! So you're looking for your sister? What happened to her? To her? Speak! We're from this island called Ulam. A vaglia, però, differ una... Un bel gioco di ruolo con una storiona. Una minchiata, ma una storiona. Speriamo che sia questo. Arena! Rush! Rush! It's a package for mom and dad! It's probably just another lame excuse why they can't leave their research. Hey, cheer up, sis. Whoops. It's a visit stone. Let me set it up. Leila! Oh! Hi, Rush. Hello, Arena. Are you two behaving yourselves? Both of us are having a great time here at the Academy in Illusion. And we were lucky enough to have a breakthrough in our research. But, as you probably guess, things are taking longer than expected. See? Told you. So your father and I agree that you should come live with us in Illusion. It's always about what they want. What we found is a key that lets us use the remnants in new ways. It's going to change the world for the better. But you kids are more important to us. And I'm sorry we haven't been out to visit for so long. Joe, we're running out of time. Oh, uh, right. We'll be sending someone to pick you up. Better start packing your bag. And Rush, you look after your sister, alright? Take care of yourself. We'll be safe. Out of time. Dad's never been good at keeping track. Are you worried about leaving? A little. I mean, I've never been off the island before. Uh, I'll be fine. After all, we'll be back with Mom and Dad. You know it. Huh? What? What? Non sono loro ad essere venuti a prendere per quanto di mamma e papà. Penso. Get your hands off me! No! Leave my brother alone! Ice him. Combattiamo. Ecco, questo nostro chat lui mi piace. Rush. Che cosa fai? Che succede? Che succede? Non tira! Oh, he'll be... Oh... Poco prima che lui la cercasse. Ok. Mi dai un'arma? Devo verificare... Emma si è unita al gruppo. Thank you. Giù. Destra e sinistra. No, tutto a posto. Allora. Mi dai le opzioni? Allora, così no, così no, così no, così no, così no. Speriamo ci sia da esplorare un po'. Andiamo là, va. Non riesco ad attivare nessun tasto, quindi... Allora. 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 a meno che qualcun altro mi sia già legato A, F, D, F A, M, D, M difesa attacco F, M non so però cosa voglio dire mano 1, mano 2 ah ok però io devo andare a cagare eccolo qua ok ah posso salvare anche qui nel dungeon dai ma come ma si può ma va che roba mettiamo un attimo in pausa ok Grazie a tutti. 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 Unica figlia. Grazie a tutti. 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 o solo a... Ok, ok. 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 Ohho! Ha Ha Sweet! Gotta suck it up and stop these guys! Perchè non era sicuribile la cura? Perchè non è 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 sicuramente la cura? Bellino lui Morale Morale Ordina di attaccare un capo, o ogni unità scegliere l'azione da eseguire. Capo. Ordina di attaccare un capo. Oh. Come on, let's kick some A! RAP! I'll make you remember the name Emma Honeywell. Usiamo le arti guerriere. Hmm. Eeeh, cosa vuol dire? È un caso che sia comparso dopo, ogni turno cambia qualcosa, non ho capito. So, il tuo talisman è più che un accessorio di moda, dopo tutto. Huh? My lord! My lord! Tu non dovevi venire tutto questo per me, per favore, accettate le mie scelte. Vedere che sei sicuro è sufficiente. E chi è questo? Ha detto che sia il figlio del Dr. Sykes. Ho visto. Faccia da culo che hai. Tu chi sei? Sono Torvo, uno dei quattro generali di Athlum. Il nostro lord, il marquis di Athlum, vorrebbe essere di estendere il suo grazie. Stai avanti. Se sei un felino già mi stai simpatico tu. E proprio nell'acqua. Se hai saputo che le vostre azioni hanno ottenuto la mia gratitudine. Perciò la culo. Se gli uomini che hai chiesto hanno avuto il territorio d'Athlumian, non possiamo riuscire la scelta. Ti accompagnare a Athlum. È bene, Torgo. Grazie mille. Ho chiesto quella strana volante qui, ma non avevo una scuola dove andare. Ma hey, se ho un ragazzo importante come tu mi spaventare, ho troppo meno da preoccupare. Questo è Ace! Il nome è Rush, Rush Sykes. Chi sei? Sono Davide Nassau, il Marquis di Athlum. Tu mi potresti adresare come Davide. Certo, Dave. Faccia la culo. Facciamo la culo. Siamo tornati e vedremo quali tigli che ci trovano in Athlum. Tutte le truppe, tornano immediatamente a Athlum. Sì, mio signor. Vabbè, Davide, andiamo. Tu non! Tu non hai capito le mani? Non c'è il modo di adresare il Marquis di Athlum. Cosa è il tuo problema? È bene. È sorprendente semplice, non ti pensi? Abbiamo ancora di vedere. Un felino con i dread, però mi sta già sui coglioni, eh. Cioè, non con i dread, con le treccine. Davide Nassau. Sì, c'è le pali. Se nota come la sua prima linea di difesa. Questa zona ora è ora accessibile. Questa zona ora è un po' di selezionare. Allora, selezionare. Selezionare immediatamente. Allora, io non so, mi sono scatti. Uh, dovevo vedere panoramica. Che diavolo era? Grazie a tutti. Torgal, non Torgal, non mi piace Torgal. Torgal è carino. Rush, abbiamo preparato un ruolo per te dentro del castello. Dopo la tua viaggio da Ulam Island, devi voler restare e recuperare dalla tua, presumibilmente, arduosa viaggio. Ma ha quattro braccia? Solito coglione, giappo minchione. Il personaggio del coglioncello che poi matura, cresce e diventa un po' trappio trappato. Il personaggio del castello è verificato la sua storia. Siamo iniziare. Ok, uh, io ando ora. Ciao? se c'è un'informazione che chiede, c'è un pub in vertice paris che potremmo sbagliare per l'investigazione venite al castello se necessite di noi ok, sto iniziando vai a me è così la mappa? non è carina non mi fa capire quasi niente vabbè per uscire ripremo lo stesso tasto ovviamente panoramica vuol dire... ah, micchia salvataggio autoreco completato, ok salvataggio autoreco completato, ok 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 Ah, quadrato. Interagisco con questi? No. Quisiti? Bazar e Locanda. Quisiti? G! Eeeh... E cosa vuol dire? Io pensavo difesa... EF... EF... Eeeh... Forza, magia... No, mi sto sbagliando. Adesso non compro niente, amico. Ci penso un attimo. Magari una pozzoncina? Arte degli oggetti, erbe e lozioni. Magari più tardi. Intanto do un'occhiata. Ah, il fabbro sistema le armi. E tu vendi? E tu vendi? Il remnant di questa città. Quella è una grande storia. No, no, tranquillo, c'è di gente strana. Non interagisco con gli oggetti. Che brutto, però, muoversi così. Che brutto, però, muoversi così. E' un altro che era. Facciamo il giro, va. Attacco e mostri sulla piazza. I bambini. Lord David... Eeeh... 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 Non interagisco con niente Ah, mi sembra di nome No Ci si lega come ci spiegava al forziere E' corrennante Anziano Gentile Valeria Heart Il Coraggio Va bene Tassi Un giorno non caglio con la squadra No No Dove robarci se dici tu Io non prego un cazzo di nessuno L'autorismo Ini Si Un Che Un 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 andiamo alla locanda qui niente forse non ancora ok questa è la locanda ma lui ha detto taverna ma forse è la stessa cosa da dove arrivo? no ok uso la croce direzionale un faccino come il tuo ok ti piace eh il marchesino? ecco la faccia da chiulo che ha non posso distruggere niente? no era una taverna non era una locanda almeno non c'erano posti per dormire credo questo? non c'erano non c'erano non c'erano non c'erano non c'erano non c'erano un muro invisibile un muro invisibile non c'erano 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 come ci vado io di là? sto sbagliando strada forse devo uscire e tornare in piazza no, sembra strano in azzurrino mi dà i punti, cioè i puntini azzurri sono le persone con cui posso parlare peccato muoversi così, non ho ancora capito capito già mi piace però il salvataggio automatico, tutti sti checkpoint fanno ben sperare capito io sono Pagos, uno dei quattro generali dell'Athlon as per Miss Irina non c'è un'attività nocturna vicino alle rubellia 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 Grazie a tutti. Anche le scuole di Academy non potrebbero mantenere la mamma e l'apato. Prendi in mente che i Sykes sono presentamente involucrati in ricerca di alto livello. Può prendere un po' di tempo per loro rispondere. Dopo l'altro, ti assisto per ogni modo necessario. Sua bene per me. Ehm... ma non posso fare altro? Volevo andare a prendere qualcosa. Tipo lo scudo o altre cose. Vabbè. Sì, andiamo. Blockter è il ciccione. Sì. Grande. Il plotone di Blockter. Quindi non solo lui. Sì. www.pomme medos.com Vale. Grazie. Grazie per la visione Ok Allora non ho trovato delle pozioni già pronte a quanto pare però Per ora prendo lo scudo No Andiamo a comprare... Allora non ho trovato delle pozioni già pronti Allora non ho trovato delle pozioni già pronti Questo movimento non mi piace Acqua Allora non ho trovato delle pozioni già pronti 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 2D4, 3D4 Matteus Nelly, Blockter Ah, il Plotone, siamo in 4 Ok, siamo in 4 Ok, siamo in 4 E ti conviene affrontare una volta quanti più avversari ti è possibile Ah, infatti Ah, ok Oh, come è sensibile si può controllare Sì, meglio Dovevo avvicinarmi a 2 Oh, come è sensibile si sono deve continuare Oh, come è sensibile si sono state Oh, come è sensibile Oh, come è sensibile went breast viktig Oh, come è sensibile Consumo a 7 Quanto m'ho allevato Quanto m'ho allevato Quanto m'ho allevato I punti... quelli salvo, no? No. Punti abilità. Impostazione accadente, no. It's you and me then! Piece of cake! Punti abilità! 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 Cosa? Punti abilità! Punti abilità! Punti abilità. Let's do this! The winner's the one who strikes first, yeah? It's you and me then! Show those dirt like that, Hurt! No, I don't like this thing. Let's brush some heads! Come on, let's brush some heads! Don't have to control what happens, if... anche i punti vita non riesco a controllarli boh magari mi abituerò ma non ne sono mica tanto sicuro pensavo di averla inclusa all'attacco recuperare la salute all'attacco con le arti guerriere mmm vabbè non capisco non capisco che tipo di controllo ho su questa cosa proprio no non capisco 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 ma e' anche vero che non ho capito bene la questione del flanck o altre cose però vediamo sconfiggi gli schiavisti allora io posso solo scegliere ok carica 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 Fanculo Io non sono proprio fatto per Sto morendo Quindi Ma vaffanculo L'attiverò automaticamente Ho capito Puoi bloccare Un'unione Non ho capito Che cazzo sia L'unione In un aggancio Senza essere fisicamente vicino In questo caso Si parla di Attacco Fulmino L'attacco C'è già da NX Sull'unione Obiettivo Ma porco Dio Ma durerà solo un po' Che Ma qui ci muoio adesso Poi ho il morale a terra E quindi non ho difesa E ho Dio di essere L'attacco Che sta risolando liberamente le alti I can't go down like this Sì Sì Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che non è strano per me, visto che sono un abissimo, però a cazzo... Non ho mai avuto difficoltà a giocare... Non è vero, quelli classici non ho avuto difficoltà a giocarli, quelli giapponesi classici a turni, ma questi non li ho capiti. Non ho capito niente. Cioè... E' visto che ormai con i videogiochi sono abbastanza... Radicale. Se mi piace è bene, se non mi piace... Sti cazzi... Non ho tempo... Da perdere con una cosa che non mi fa godere in nessun modo. Gli do qualche chance. Magari lo ricomincio, vediamo. Perché non mi sembra di aver visto un tutorial... E anche in combattimento posso usare qualcosa dall'inventario, non lo so. Qui posso skipare? Qui posso skipare? Perdere del farlo. Carica E ho l'attacco... Tu e io che... Ah Smash him from the sides But not me care Oh Ma qui non stanno prendendo mazzate, è solo una scena Ah, me lascia no prende Va 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 Doppio ba, triplo ba. Doppio ba, triplo ba. Doppio ba, triplo ba, triplo ba. Io posso scegliere solo la... All'attacco. All'attacco. Posso tornare indietro? Si All'attacco Là sopra vedo Tutte le mie due unità che vanno contro Quell'unità It's you and me then Ya It's like that is it Smash him from the sides But Non è pronto, sì. Vuoi giocare? No, non ci sono? Grazie a tutti. 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 Ah, ok. Qui finisce l'avventura. Ci torniamo a piedi? O con la mappa? A piedi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tanti scontri per capire. Questa è la ranocchia? 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 Cos'è la ranocchia? Questa è la ranocchia? E la colonna è bassa Oh, l'altro voleva più nemici assieme, questo Let's clean up these fiends Are you all right? Piece of cake Non ho capito se devo esplorare Se trovo Delle cose oppure no Telecamera non mi piace ancora Ci riproviamo con sti cazzo di... No, 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 non ci riproviamo No, no, non ci riproviamo per niente Magari più avanti Let's do this Come on, let's kick some egg We should strike at their flank Piece of cake Minchia, adesso è troppo lenta Minchia, adesso è troppo lenta Niente, teniamocela così That drone è un joke action That drone è un joke action Ok, let's do this 2 unità vuol dire quelle La defensa è una buona offenza Come on, let's kick some A Ho già dimenticato cosa è l'interferenza No, presta poco L'aggancio, vabbè Sono un po' triste per questo Sono un po' triste per questo No, presta poco Non mi aggancio a niente Non credo di poter fare niente È una stanza vuoto Sì, senza i quick time event è abbastanza ridicolo, però Come on, let's kick some A Two We should strike at their flank We're counting on you Piece of cake Sweet Tanto livelli Let's do this The best defense is a good offense Let's do this Perchè poi attaccano uno? Non sto usando nessuna logica perchè non l'ho capita Perchè poi attaccano uno? 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 Mi sembra un gioco da cellulare per come lo sto giocando io Perchè poi attaccano uno? 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 Beh, 65. Grazie a tutti. Che poi ho ragione, ne vedo due, invece è uno solo. Hai catturato un mosso? Hai catturato? 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 Catturato? Hai catturato? Ha catturato? Un altro uomo? Smasch'em from the sides! Smasch'em from the sides! Smasch'em from the sides! Smasch'em from the sides! Nulla. Ci riprovo una volta. Ma... ma... Penso che non mi interessi neanche impararlo. No. No, assolutamente. Smasch'em from the sides! Che sistema ridicolo! Quello della PlayStation. Vabbè. Forse non si poteva fare altro per una Remastered. Non lo so. So! As you... Smasch'em from the sides! Smasch'em from the sides! Smasch'em from the sides! Are you alright? Oh Oh Don't lose composure man There's still plenty of power left in these old bones inching k 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 Grazie a tutti. Usa Remnant. C'è qualcosa da prendere qua? 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 C'è qualcosa? C'è qualcosa? C'è qualcosa da prendere qua?